Mamma, moglie, un background alla questura di Torino, una colonna portante e ha già un primato per Vercelli, essere il primo questore donna della città bicciolana. È Rosanna Lavezzaro e noi la presentiamo così. Grazie, allora. Il mio inizio qui è stato veramente forse ancora migliore delle mie aspettative. Città estremamente accogliente, il tempo poi di oggi veramente mi ha fatto un doppio regalo. Ho trovato un clima disteso, professionale, di grandissima collaborazione ed è già un ottimo punto di partenza. Vedremo se sarà il caso e in che termini sarà il caso di dare un'ulteriore ventata eventualmente di entusiasmo. Io ringrazio tutti quanti per l'accoglienza così calorosa che mi avete voluto riservare e lavorerò con l'impegno e con la dedizione che questo mio ruolo assolutamente richiede. Anche perché ora le quote rosa a Vercelli sono la maggioranza. Assolutamente. In occasione della festa della donna ho più recentemente avuto modo di fare una piccola relazione sul management al femminile e c'è sempre questo famoso tetto di cristallo oltre il quale le donne difficilmente riescono ad andare. Direi che a Vercelli è assolutamente una bellissima eccezione. Quindi grazie e questo mi farà lavorare, se posso permettermi, con ancora più entusiasmo. So che siete una gran bella cittadina. Il commento che ho ricevuto dai colleghi che mi hanno preceduto è stata cittadini, modello, tutti molto per bene e io ho già avuto modo in quei due o tre caffè che ho già preso stando qua che è veramente la cortesia qui è di Caccia. Per cui vi ringrazio per questa accoglienza. Lo staff che ho trovato in questura è assolutamente, per questa primissima impressione, mi è pazzo, assolutamente di perimordine. Vercelli è una città che non conoscevo, però sono particolarmente interessata perché le cose nuove, insomma, hanno sempre in sé, portano sempre cambiamenti. Mi auguro, ma ne sono certa, assolutamente positivi. Grazie. 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 Grazie.